Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Daniele Sirimarco, ha convocato stamattina i giornalisti alla caserma di Viale Virgilio per un incontro puramente conoscitivo, durante il quale ha annunciato il suo impegno nella prosecuzione del lavoro svolto finora dai suoi predecessori, ultimo dei quali il colonnello Giovanni Di Blasio, tutto rivolto all'affermazione del principio della legalità. 48 anni, originario di Praia Mare in Calabria, Sirimarco ha vissuto a Roma ed ha avuto esperienze importanti nello stato maggiore dell'arma in varie regioni italiane, ma non aveva mai varcato i confini pugliesi. È il mio primo incarico in Puglia, sono contento e felice di questa esperienza che sono convinto mi arricchirà tantissimo e spero di farla al massimo delle mie possibilità. Credo che il compito dei carabinieri sia quello di produrre sicurezza e questo lo si può fare solo affermando un principio di legalità e di controllo del territorio con una partecipazione tra le istituzioni sicuramente concreta e efficace al servizio del cittadino. Il comandante ha più volte sottolineato l'aspetto fondamentale dell'interistituzionalità, quindi della collaborazione con tutti gli altri soggetti istituzionali del territorio, al fine di fornire un messaggio rassicurante ai cittadini.